Buonissimi amici ed amiche, salve a tutti un importantissimo aggiornamento sul caso di Pierino Paganelli, poi approfondiremo con un altro video più tardi domani mattina, ma la notizia che giunge in questi momenti è che non solo le indagini procedono, ma sono emersi elementi nuovi per cui nei prossimi giorni saranno riconvocati sia Loris che Valeria Emanuela per approfondire certi aspetti, è stata data la notizia a mattino 5 da Emanuele Canta, le ipotesi vanno dal favoreggiamento oppure elementi che comportino una responsabilità diretta, non sappiamo. Certamente è una notizia questa, una notizia che personalmente non mi lascia meravigliato più di tanto e che attendevo e auspicavo in qualche modo perché se qualcuno pensava che le indagini si potessero chiudere lì con Luis da Silva in carcere e che poi si chiudono le indagini e si fa processo, credo che non facciamo molta strada. Purtroppo questo è un chiaro delitto di organizzazione. Vediamo cosa uscirà fuori. Credo, presumo, mi auguro che io possa aver dato un minimo di contributo nel senso di aver evidenziato come sia chiaro che non possiamo rimanere ancorati alla circostanza che per questo rapporto di amante c'era una persona uccida Pierina Paganelli per non farle conoscere l'identità dell'amante quando questa cosa era saputa praticamente da tutti. e non si può ignorare quell'uomo che esce alle 22.20. Vedete, nessuno ne parla. A me dispiace perché i grandi mezzi di comunicazione non ne parlano perché sono indotti così, perché nessuno ne parla e non ne parlano nemmeno loro. Ma la gravità, secondo me, sta nel fatto che non ne parlino i diretti interessati. Come avete visto, chi ha visto Mattino 5, ad esempio, che tutti si sono chiusi in un silenzio angosciante, preoccupante, nessuno parla più consigliati così magari dagli avvocati, quindi nessuna parola da Valeria, nessuna parola da Loris, nessuna parola più da Manuela quando invece fino a pochi giorni fa erano tutti belli in favore di telecamera. Forse qualche cosa sta cambiando, qualche evento sta cambiando, qualche preoccupazione sta rasivando perché lui si in carcere e non parla. Perché non parla? Noi cosa abbiamo detto sempre in questo canale? C'è il filmato probabilmente dell'assassino che esce, si dice alle 22.20, si dice alle 22.20, se così fosse confermato perché quel filmato comunque è dopo le 22.00, questo signore incappucciato che esce, probabilmente è l'assassino. Ora nessuno di costoro che o accusati o semplicemente sospettati vanno a dire, signori miei, ma ve l'avevamo detto noi, già da ottobre, quando è successo il fatto, ve l'avevamo detto, eccolo lì, la prova. C'è un uomo incappucciato che esce sette minuti dopo e va via. Quello che cos'è? Non può essere l'assassino, ma non lo dicono, non lo dicono per paura di essere compromessi perché qualcuno vorrebbe pensare di dire, ma allora fa che non è il pazzo che si aggira ma è stato mandato. Non lo so, sono suggestioni, per oggi abbiamo questa notizia che ci dà il giornalista Emanuele Canta che nei prossimi giorni saranno riascoltati Loris, Valeria e Emanuela per delle specificazioni importanti, saranno ascoltate a sette, quindi ci saranno secondo me probabilmente altri sviluppi. Vedete, la ricostruzione è, e concludo, che Luis uccide e poi vada a buttare il coltello. È anche contraddetto da un altro elemento che è emerso da quel rumore che sente quella famosa telecamera sotto al garage, delle 22, 16 e 25 secondi, quando, secondo la prima ricostruzione, a quell'ora non ci doveva essere nessuno, un rumore forte come una porta tagliafuoco che sbatte, ma alle 22, 16 e 25 secondi non doveva esserci nessuno lì sotto, non ci sarebbe dovuto essere nessuno. Nelle ipotesi Luis era uscito a buttare e quindi lì probabilmente c'era invece o il complice, questa persona come complice, come esecutore materiale, c'era questa persona lì. Probabilmente l'assassino è il mio modo di vedere che poi qualche minuto dopo se ne andrà. Il corpo è stato sicuramente ricomposto, sicuramente qualcuno è intervenuto dopo, ecco che alla luce di tante cose, ma anche di tante cose, anche di quel colloquio così bisbigliato il giorno 4 in quest'ora, ci sono tanti dubbi. I dubbi che stanno venendo adesso anche alla procura che non è solo Luis, magari è Luis, ma non solo lui, non solo lui, sta emergendo una possibilità di compromissione più ampia. Quindi questa è la notizia, questa è la notizia e l'approfondiremo più tardi. Quindi grazie, condividete che penso che siamo a un'azvolta importante.